Le luci di Natale le hanno accese i trattoristi a Trinitapoli. La seconda edizione della Stella Cometa ha ottenuto grandi consensi a due giorni dalla vigilia per festeggiare un'annata agricola abbastanza positiva. La Stella, vista dall'alto, è stato uno spettacolo mozzafiato per augurare alla città di vivere in serenità e allo stesso tempo sperare in un nuovo anno positivo. Nella zona 167 di Trinitapoli, tra via Mandriglia e via Mattarella, ha preso vita una Stella Cometa, illuminata da oltre 150 trattoristi venuti da ogni parte della provincia per dare un messaggio di pace e di fratellanza. Trinitapoli risponde, risponde, risponde. Un paese agricolo cresce, ovviamente cresce. Ci sono, come vedete, qui presenti tanti trattori e tanti agricoltori. Siamo tutti qua presenti con tanti trattori, più di 100 trattori. Siamo calorosi questa sera qui per inaugurare un buon Natale. Sono presenti dai paesi, dai mitrofi. È stata una bella iniziativa. Per il secondo anno è stata veramente bellissima questa incontro e organizzazione, ovviamente, di tutti i ragazzi qui presenti. I trattoristi casalini hanno promesso che non sarà l'ultima edizione e stanno già pensando a come ingrandire un'iniziativa che ha chiamato a raccolta curiosi e famiglie per l'originalità. L'abbiamo organizzata in una decina di giorni, più o meno, grosso mudo. Poi, diciamo, gli altri amici, quando si parla di collaborazione, si mettono subito in muto. Quindi, davvero, è stato tutto fatto in un lampo. Hanno coinvolto un po' tutti, grandi e giovani, insomma. È stata una cosa davvero bella. Coinvolgere tutti ed è anche un modo per comunicare, per stare un po' insieme, per passare anche una mezza giornata così tra amici. Al termine dell'eliminazione della stella, gli oltre 150 trattoristi hanno sfilato per le vie della città, salutando grandi e piccoli e augurando loro Buon Natale. Un sereno Natale a tutti! Buon Natale!